Musica Mettere in luce le bellezze del centro storico coinvolgendo non solo le associazioni del territorio ma anche i migranti che hanno trovato ospitalità nella nostra terra. Con questo spirito a Boiano è stato proposto il presepe vivente, un'occasione per apprezzare le capacità dei tanti protagonisti, dai più piccoli ai più grandi, ma anche per riscoprire vecchi mestieri e sapori di un tempo nelle botteghe allestite lungo il percorso. L'idea nasce dal volere valorizzare il nostro centro storico. Le precedenti edizioni si sono svolte a Civita, che è il borgo medievale. Quest'anno abbiamo deciso di cambiare e quindi di svilupparlo all'interno del centro storico di Boiano, dell'antico centro storico di Boiano. Abbiamo preso qualche antica bottega, qualche palazzo antico, quindi negli androni dei palazzi e abbiamo deciso proprio di ravvivare, di far rivivere proprio questo centro grazie alla partecipazione dei residenti del centro storico e di tutte le associazioni. Tra le particolarità della rappresentazione ambientata nel centro storico di Boiano anche la possibilità di assistere a un concerto organizzato nella cattedrale. Tutte iniziative queste che rientrano in un progetto di più ampio respiro improntato alla solidarietà sociale. Il presepe entra nel cartellone delle politiche sociali, dell'osservatorio alle politiche sociali che è alla terza edizione e si chiama Natale in solidarietà. È un momento importante grazie all'attività dell'assessora alla cultura perché pone proprio nel vivo degli altri eventi, che sono tanti, sono più di dodici, sono una dozzina, questo stop di stampo religioso ma anche assolutamente importante di stampo turistico se vogliamo perché rivitalizzare un centro storico meraviglioso di Boiano che sono un po' ultimamente spento e soprattutto aggregare tantissima gente, tanta gente, tante associazioni, tutte quelle presenti sul territorio che a ogni richiamo contribuiscono a un'attività gratuita, a un'attività di volontariato. Tutto il raccolto di eventi grazie appunto alla generosità degli artisti che si sono prestati a titolo gratuito e di altre persone, imprenditori, persone che ci ruotano intorno servirà ad impinguare le casse di associazioni che fanno questo proprio, quindi il volontariato caritatevole.